Facciamo anche qualche cenno storico per celebrare la rilisa appunto doppia di strumenti signature dedicati ai due chitarristi dei Metallica. I Metallica nascono nel 1981 a Los Angeles da Lars Ulrich e James Atfield che si sono conosciuti tramite un annuncio su un su un giornale, su una rivista. I Metallica soprattutto all'inizio prendono tanta influenza dalle band inglesi, quindi dal movimento del British Heavy Metal, quindi gli Iron Maiden, i Diamond Head soprattutto, e arrivano ad uscire col loro primo disco con Kill Em All. In Kill Em All non troviamo più Dave Mustaine alla chitarra che andrà a formare i Megadeth e appunto entra nel primo disco Kirk Hammett alla chitarra. Contemporaneamente anche al basso vediamo l'ingresso di Cliff Barton e quindi arriviamo a quella che è la formazione diciamo più storica possiamo dire dei Metallica.